È stato aperto nelle scorse ore, come da programma, il Pozzo Burano per fronteggiare l'emergenza idrica nel Pesarese. Una scelta che si è resa necessaria dal momento che non sono previste piogge significative nei prossimi 10-15 giorni. Il prelievo dell'acqua avverrà per una portata di 300 litri al secondo per garantire una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento idropotabile previa esecuzione di alcune misure di portata sul fiume Burano. È un prelievo abbastanza consistente, ma ci consentirà di rimpinguare fortemente gli invasi più a valle. È prevista invece per il 14 agosto una nuova riunione del Comitato di Protezione Civile per valutare il livello di accumulo negli invasi e per verificare se sarà ancora necessario tenere aperto il pozzo o ridurre parzialmente i 300 litri fino ad arrivare ad una sua chiusura. Questo però lo vedremo un attimo con l'andamento complessivo della portata del fiume e anche con l'andamento complessivo dei consumi che avremo da qui alle prossime settimane. Nessuna crisi idrica dunque, anche se la situazione verrà monitorata giorno per giorno. Non c'è neanche oggi, ma non ci sarà neanche domani, ma domani non ci sarà perché appunto abbiamo attivato questo pozzo, perché noi l'abbiamo monitorato passo passo per capire quando fosse necessario la sua apertura.